In Veneto lo sport vince. Oltre il 43% della popolazione pratica uno sport in modo continuativo, saltuario. I sedentari sono solo il 21,5%, meno sedentari dei veneti solo gli abitanti del Trentino Alto Adige. Lo studio deriva dagli ultimi dati Istat. I dati CONI del 2018 rivelano che in Veneto gli sport più amati sono calcio, pallavolo, tennis, pallacanestro e atletica leggera. Una popolazione attiva è sinonimo di una popolazione in salute e con meno probabilità di sviluppare patologie in età avanzata, ha intervenuto l'assessore regionale allo sport. Per questo la regione del Veneto è inserito nel contesto della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile della macro area 3 per il benessere di comunità e persone, interventi a favore della diffusione di stili di vita sani anche promuovendo l'attività sportiva e potenziando le infrastrutture sportive. Il risultato è che in Veneto sono sempre meno i sedentari. Ionio Frutta Continua la sua tradizione nel garantire ottimi prodotti di ortofrutta sempre freschi. Ionio Frutta è a Sottomarina in Viale Ionio a due passi dalla spiaggia e da oggi integra la sua gamma con frutta e verdura a chilometro zero. Grazie alla collaborazione con le migliori aziende agricole del territorio. Ionio Frutta, l'isola della freschezza 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 Ionio Frutta, l'isola della freschezza